Musica Bentrovati con l'edizione di Stadionews24 dell'Isalo Piccolo Torna a parlare Maurizio Zamparini, il padron del Palermo in una lunga intervista ripercorso il suo passato da presidente del Venezia prossima avversaria dei Rosanero nella sfida casalinga di sabato ma anche del presidente Tacopina un tempo tra i principali interlocutori nella trattativa con Paul Baccaglini proprio sull'italo americano Zamparini fa chiarezza svelando come l'attuale presidente del Venezia e la sua accordata all'epoca erano troppo inconsistenti affinché comprassero la società di Viale del Fante sul Venezia infine l'imprenditore dice che nonostante i 15 anni passati da presidente della Gunari a causa dell'inclinarsi proprio del rapporto con la tifoseria non si emozionerà più di tanto al momento del match al Barbera Pavel Davidovic nella giornata di ieri è rientrato a lavorare in gruppo nella consueta seduta di allenamento in vista della sfida casalinga il calciatore polacco si era fermato per un infortunio muscolare nella partita contro il Carpi spetta dunque adesso a mister Tedino decidere se Davidovic potrà essere impiegato dal primo minuto o a partite in corso intanto rientrano in gruppo dopo l'impegno con la nazionale B Italia Fiordilino e Lagumina ancora a parte Belusci, Monachello e Struna infine brutte notizie per il Palermo primavera i rosa nero sono stati battuti dalla Roma per due RTA1 nella gara valida per gli ottavi di Coppa Italia i ragazzi di Giuseppe Scurto allo stadio Tre Fontane dopo il doppio vantaggio incassato reagiscono con Cannavò che accorcia le distanze a quattro minuti però dalla fine poteva realizzarsi l'impresa sempre con l'attaccante siciliano ma una deviazione ha permesso ai giallorossi di passare ai quarti è tutto per questa edizione dell'Isolo Piccolo appuntamento alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti